Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Prodigic e benvenuti in un nuovo video guida. Sì esatto, è stato un periodo dove si è parlato molto di connessioni, sia perché appunto è uscita una specifica nuova, adesso da poco, il DisplayPort 2.1, nel 2020 è uscita l'HDMI 2.1 e sia perché principalmente molti di voi ci fanno già la domanda ma cavolo cosa attacco HDMI, DisplayPort e soprattutto poi ci sono uscite le schede video nuove che uno monta uno standard DisplayPort 1.4 e l'altro 2.1, quindi che cosa dobbiamo fare noi? Ma soprattutto la risposta alla domanda principale, cosa è meglio per giocare? Perché alla fine l'obiettivo ultimo sempre quello è... Questa è una domanda che ovviamente al di là del periodo pieno effettivamente di novità ci fate da anni, letteralmente anni, quindi ci sta portare finalmente un contenuto in cui spieghiamo un po' meglio le due tecnologie perché di fatto di differenze ne hanno e anche tante, soprattutto per tutti gli standard che si sono conseguiti durante gli anni. Quindi partiamo da cosa c'è di diverso. Noi siamo particolari, siamo un canale PC, abbiamo portato la guida di assemblaggio dopo otto anni. Dopo! La guida, la connessione dell'Accademia di DisplayPort dopo nove anni. Le basi sono tante però di cui parlare. Oltretutto, piccolo dettaglio, in queste settimane soprattutto in tantissimi avete comprato un nuovo monitor. Grazie, tra gli errori di prezzo e gli scondi che ci sono stati è normalissimo. Anzitutto partiamo col dire che lasciamo completamente perdere tutti gli standard del passato, da VGA, DVI, tutte connessioni che ormai hanno lasciato fortunatamente spazio alle nuove e quindi sia HDMI sia DisplayPort sono due standard che entrambi passano sia audio che video in modi diversi. Possiamo dire che il DVI è stato l'antenato di queste due tecnologie perché è stato digitale come queste e non come la VGA analogica. Quindi non entriamo nello specifico, andiamo a vedere quando sono state fondate ancora l'anteguerra degli anni 90 ma concentriamoci su adesso e sul gaming. Esatto, adesso e gaming. Quindi al momento la disponibilità, la maggior parte diciamo del mercato sia di monitor che di GPU perché sono importanti entrambe, non solo l'una, non solo l'altra e poi vediamo il perché. Viaggiamo su standard che per la DisplayPort vanno da un minimo di 1.4 su praticamente tutti i dispositivi aggiornati quindi sia monitor sia GPU, mentre per l'HDMI ormai la 2.0 è abbastanza sdoganata come base e poi si arriva alla 2.1. La 2.1 è quella, ma anche adesso comunque a due anni già praticamente tutti i monitor, la maggior parte dei monitor usciti è di fascia comunque altina, hanno ormai una 2.1. Comunque sui TV ormai la 2.1 all'inizio non piena banda, adesso praticamente piena banda si trova su tutte le TV nuove. E perché parliamo di banda? Perché i due tipi di connessioni portano di fatto un tot di dati differente l'uno dall'altro ed è anche qui uno dei vantaggi più grandi, tra virgolette, di alcuni standard. E non è diverso dal discorso rame-fibra, nel senso che la differenza è appunto la banda che passa all'interno di questi appunto sistemi di connessione ed è importantissimo ragazzi, proprio perché più dati ci possono passare e ovviamente meglio è. Per quanto riguarda la larghezza di banda più grande, ovviamente è per noi PC gamer, quindi è la DisplayPort 2.1 che raggiunge a piena banda sbloccata nella trasmissione DisplayPort i 77 gigabit al secondo. Cioè per farvi capire siamo quasi al doppio del tanto famigerato HDMI 2.1. Il problema è che il DisplayPort 2.0-2.1 non ce l'abbiamo ancora fisicamente nei nostri dispositivi tecnologici. Quello che ha fatto tanto parlare e ne parleremo anche più tardi chiaramente è l'arrivo di nuove schede con la 2.1. Quindi la prima scheda 2.1 dovremo vederla entro quest'anno. Sì, fra due settimane. MyMonitor? L'anno prossimo. Quindi è vero che la DisplayPort nella sua versione più aggiornata ha una banda esagerata, ma quella più diffusa ad oggi che è la 1.4a arriva invece a 26 gigabit al secondo a piena banda. E già cambia. Questo si traduce in compatibilità diciamo per quanto riguarda l'utilizzo del gaming di frequenze più o meno alte. E nella possibilità di accedere a frequenze più o meno alte, perché se parliamo di HDMI 2.0 versus DisplayPort 1.4, che sono in questo momento sicuramente i sistemi più diffuso in commercio ad oggi mentre registriamo il video, il DisplayPort è nettamente in vantaggio e permette di arrivare a frequenze nettamente più alte, perché abbiamo i 360 in Full HD, i 240 in Code HD e arriviamo comunque anche a 4K a un buon refresh rate. Cosa che invece per l'HDMI non è stata per la 2.0, esatto. Quindi fino ad adesso la compatibilità con l'alto refresh rate, che ormai prendiamo per assodato sia oltre i 144 Hz, quindi oltre i 144 FPS tra virgolette come risultato in gaming, chiaramente era quasi totalmente ad appannaggio della DisplayPort, se superavi il Full HD come risoluzione. Vedete comunque anche dalla tabella che vi lasciamo, il DisplayPort 1.4 con DSC permette comunque l'arrivo a 4K a 144 Hz, anche perché comunque adesso rimane qualcosa di comunque già enorme il 4K a 144. Ricordiamo che la maggior parte dei player sono ancora in Full HD. Quindi dato che abbiamo parlato di questo benedetto DSC, che cos'è il DSC? In buona sostanza per alleggerire il carico sulla banda, quindi sulla quantità di dati trasportabile tramite questi tipi di connessione, spesso e volentieri per l'immagine viene applicata una compressione video, che nella maggior parte dei casi, tra virgolette, o perlomeno per i metodi e gli algoritmi che si usavano fino a poco tempo fa, c'era effettivamente una perdita in qualità a fronte di un guadagno, un risparmio sulla banda passante di queste connessioni. Il DSC, o Display Streaming Compression, è proprio un algoritmo che permette di alleggerire sì la banda, che viene sfruttata per trasportare immagine video e audio, ma senza troppa perdita data dalla compressione dell'immagine appunto. È ovvio che questo è, diciamo, stato uno switch clamoroso nel 2019-2020 quando è uscito, perché veramente ha permesso, comunque ha dato una botta di vita al DisplayPort non indifferente. E il DSC è ovviamente compatibile con il DisplayPort 1.4 che abbiamo citato prima, ma anche con l'HDMI 2.1. Parliamo però adesso di un elefante nella stanza, perché quando si parla di connessioni di questo tipo, si vedono appunto magari applicate a una piuttosto che all'altra periferica, quindi rispettivamente scheda video e monitor, e si pensa che automaticamente si abbia l'accesso a piena banda a quel nuovo standard, cosa che effettivamente non è proprio così semplice, perché c'è di fatto un limite. Imposto ovviamente dalla periferica più vecchia. Io ho la mia console PS5 con HDMI 2.1, voglio attaccare la mia TV che non è HDMI 2.1, mi attacco. Non posso sfruttare quel tipo di capacità di passaggio di banda. Un po' come succede con le RAM, quando tu monti due RAM diverse e cerchi di settare la frequenza RAM più alta, non puoi. Sei cappato su quella più bassa, perché in questo caso lo standard più vecchio limita le prestazioni dello standard più nuovo. Anche se avete il cavo aggiornato, tutto quello che volete, ma uno dei due dispositivi ha lo standard vecchio, chiaramente siete limitati nella banda che potete passargli. E a questo punto direi di non sottovalutare anche la situazione cavo. La situazione cavo è importante, e non so se vi ricordate proprio l'uscita delle console, l'uscita del nuovo standard. Che casino era successo? Perché forse PS5 non aveva messo dentro la confezione del cavo ultra high speed, che è quella appunto dell'Academy 2.1, che riesce a sfruttare appunto la banda dell'Academy 2.1, il casino che era venuto fuori, perché è compatibile? No, sì, no. Lì ovviamente era l'euforia del momento, tutti a casa, in lockdown, però al di là di quello che nel far casino e polemica, il problema sotto è vero. Se tu usi una PS5 e una TV 2.1, non so, l'LGC2 nuovo, ma non usi un cavo ultra speed, anche qui non hai la possibilità di utilizzare questo nuovo standard. Questa è forse la cosa più caotica, perché di cavi in commercio non esistono uno sfacelo, chiaramente, però... Cinesi. Esatto. Se andate su Amazon e c'è una lista di produttori che spunta fuori con 40 milioni di recensioni, e dici, ma sarà buono sto cavo? È quello il punto, esatto. Perché poi le persone mettono 5, perché attacca, va, funziona, lo vedo. Costa 2 euro, figa! Ma lo vedi, lo stai sfruttando, cioè cosa... Magari non... Cioè, capite, qual è il discorso, anche perché le certificazioni... Ci sono, ad esempio, DisplayPort c'è, ma nessuno fa controlli, quindi sti cazzi, c'è proprio robe così a caso, quindi... Visto che c'è così tanta confusione, in descrizione magari qualche esempio, sia di DisplayPort che di HDMI, ve lo lasciamo, giusto perché ci sono delle certificazioni che potete andare magari a vedere anche sulla confezione del cavo, nelle specifiche tecniche, però magari non sono così facili da distinguere le une dalle altre. Baking, Cable Direct, comunque ci sono marche che rimangono affidabili, comunque anche... Nonostante questo. In ogni caso, se andate a cercare un cavo fisicamente, o se lo cercate online e cercate la certificazione, deve essere proprio certificato ultra high speed. E quello che cambia anche, per quello il cavo è tanto importante, è anche quanto queste due tecnologie differiscono a livello di lunghezza del cavo che potete montare, perché da questo punto di vista, se fino ad adesso abbiamo visto più da, tra virgolette, un vantaggio per la DisplayPort, in questo senso, il vantaggio nella lunghezza e nella capacità di trasmissione è più a favore dell'HDMI. Per quanto riguarda la lunghezza nel paragone tra i due, dipende da risoluzione e da quanto appunto quello che ci dovete fare. Però di norma, l'HDMI è più del doppio, più prestante in termini di lunghezza, cioè potete usare un cavo passivo, quindi non attivo, fino ad esempio al doppio di lunghezza, ad esempio a 4K60, un cavo HDMI può essere fino a 6 metri tranquillamente, tranquillamente, e un DisplayPort 1.8 ad esempio, quindi la differenza è abbastanza importante sotto quel punto di vista. Consigliabile perlomeno per questo tipo di risoluzione e frequenza. Chiaro è che se volete spingervi di più col DisplayPort, quindi cablare, non so per quale assurdo motivo, a distanze esagerate, esistono anche delle soluzioni di cavo attivo, quindi proprio con un rilancio del segnale all'interno proprio del cavo, con dei chip che rilanciano il segnale, chiaro è che non è forse la soluzione ottimale, tra virgolette. E costa una barcata. Quindi, abbiamo permesso alcune caratteristiche del cavo HDMI 2.1, 2.0 e del DisplayPort 1.4, eccetera. Ma quindi, quale è meglio? E ovvio, ragazzi, che da come avevamo visto soprattutto all'ultimo punto, l'HDMI 2.1 soprattutto ne esce meglio. E oggettivamente, sia come larghezza di banda, mediamente, è sicuramente un prodotto più orizzontale, veramente versatile. E molto importante da utilizzare. Però la domanda è per giocare, ragazzi, non è qual è il miglior cavo, punto. Overall. Non ce ne frega niente se ci devi collegare, non so, il tuo PC da ufficio o un monitor da un'altra a sette metri di distanza. Non è quello che stiamo parlando. Stiamo parlando di gaming. Il gaming console, ovviamente, come abbiamo detto, c'è l'Academy, punto. L'unica cosa è dotarsi di un'Academy 2.1 sulle nuove console, ovviamente, e un cavo. E un monitor. E un monitor. O una TV. Però, non è un caso che sulle GPU ci sono tre DisplayPort e un HDMI, ragazzi. Non è assolutamente un caso. Per il PC gaming, il DisplayPort è nettamente la porta migliore da utilizzare. Anche perché più di 1,8 metri per collegare da monitor a PC. Non serve quasi mai. Perché non mi metterlo a due metri. Esatto. Quindi questo per applicato a tutte le risoluzioni. Poi, ovvio, va a seconda delle esigenze e per quello vi abbiamo lasciato la tabella poco fa. Proprio perché a seconda di quanta risoluzione avete per il monitor, a che frequenza volete arrivare su quella risoluzione, ovviamente cambia l'approccio. Però, chiaro è che la DisplayPort è molto più versatile all'aumento di frequenza, mentre l'HDMI è diventata orizzontale, è diventata compatibile con gli altri refresh anche e soprattutto sulla 2.1. Però rimane un dubbio, al 18 ottobre è uscito lo standard DisplayPort 2.1 e alle 20 AMD sono state presentate le 7900 o 7900XX e 7900 che utilizzeranno questo standard. Quindi, sono nettamente meglio di un DisplayPort 1.4 della 4090. E cambia e fa differenza, giusto? No! O meglio, fa la sua differenza. Perché di fatto lo standard nuovo, quello che AMD posiziona sulle schede che escono di fatto questo mese, è sicuramente un improvement importante e le rende molto futuribili, cioè valide a lungo termine. Però rimane il fatto che ad oggi di monitor 2.1 alguien è. Il punto, ragazzi, è che la feature del 2.1 DisplayPort su le AMD è assolutamente una feature che ci piace e che va bene. Non è una feature che non va bene, esagerato, va assolutamente bene come detto per il futuro. Però, non è una feature chiave. Perché, appunto, come ha detto lui, a gennaio CS verranno presentati, come ha anticipato anche AMD nel suo keynote, i monitor 2.1 di DisplayPort. I primi 2.1, esatto. Sì, ma lo sappiamo tutti quando escono i prodotti del CS. Non escono a febbraio. Né in migliore dei casi escono a Q2, alcuni, la maggior parte escono a Q3. E non solo l'uscita, chiaramente, perché sì, l'uscita sarà dilazionata in mesi, perché si parla di presentazione a gennaio è uscita, chissà, maggio, giugno, probabilmente, ma anche di prezzi, perché i prezzi lancio di monitor nuovi, che probabilmente monteranno anche nuove tecnologie di pannelli, e tutta una serie di condimenti vari, compresa la 2.1, saranno verosimilmente alti, quindi il primo approccio a monitor di questo tipo probabilmente arriverà davvero a fine anno prossimo, con prezzi più decenti. Ma probabilmente con prezzi più decenti è ancora in là, comunque abbiamo visto i HDMI 2.1 all'inizio, tuttora, non è che ormai si trova in monitor da 200 euro, quindi comunque piano piano scalerà come cosa, però ovviamente sarà qualcosa di costoso. Più che altro tu compri un XTX anche per, comunque, sei in fascia top, ma comunque ti prendi una scheda comunque a 1200, 1200, Sì, per risparmiare qualcosina. Per risparmiare rispetto ai prezzi folli di invidia e poi ti vai a spendere tutti i soldi per il 2.1 sul monitor. È difficile, è difficile. Non lo vedo meno sensato. D'altro canto, come abbiamo visto nel video dell'anno 80, queste schede dureranno, sono schede che possono durare tanto in performance, sono nettamente potenti, quindi da qua a tanti anni può divenire qualcosa di utile. Quindi per cui lo dico è un'ottima feature che ci fa piacere inserirla, non la venderei come una tragedia e come una feature chiave rispetto all'altra scheda come ha fatto Linus nel suo video, come Nvidia, però rimane qualcosa di assolutamente piacevole. Quindi abbiamo chiarito quello che è il discorso di DisplayPort, il DisplayPort 2.1 e la rivalità verso HDMI. Quindi possiamo dire che DisplayPort è il miglior cavo di sempre? Direi di no. No, per noi PC gamer però in un certo senso è il miglior approccio ad oggi. Questo non vuol dire che l'HDMI è uno schifo, non dovete usarlo assolutamente vietato. Anzi, secondo me overall è meglio del DisplayPort, assolutamente. è molto più orizzontale l'HDMI come standard, è utilizzato da molti più dispositivi, guardate semplicemente le TV, le TV non ce l'hanno, il DisplayPort hanno solo HDMI, quindi è chiaramente uno standard più diffuso, ma stiamo parlando di giocare su PC, quindi per giocare su PC l'approccio migliore, anche a livello di costi banalmente, cavo, dotazioni, monitor, schede video, il DisplayPort ad oggi rimane il miglior approccio. Non la vieta che se non volete il DisplayPort dovete dotarvi di HDMI ad alto refresh rate 2.1. Quindi il discorso è non sottovalutate tutti i tre step, non uno, ah no, ho la GPU 2.1, quindi è tutto 2.1 e tu hai la 4090 e sei 1.4, ah, scemo, no, se hai solo la DisplayPort 2.1 vai come quell'altro, esatto, quindi non cambia assolutamente niente. Il punto è avere tutto, non sottovalutate il cavo e anche e soprattutto il monitor barra TV. Poi fateci sapere appunto qual è la vostra esperienza, cosa utilizzate, ovviamente diamo per scontato che è collegata alla GPU e non l'integrata, perché non l'abbiamo manco specificata questa cosa, perché mi sembra comunque questo è un video abbastanza basic, lì andiamo oltre il basic, quindi non l'ho neanche detta, però sta cosa. Fateci sapere soprattutto se vi è stato utile, se abbiamo risposto alla domanda, se qualcuno di voi era in dubbio, se appunto stavate diciamo scegliendo tra l'una e l'altra connessione, tutto quello che volete, come al solito. Anzi, fateci sapere se voi utilizzate più la DisplayPort o l'HDMI ragazzi, perché sinceramente magari sono curioso che tutte pagate l'HDMI sull'Egip, io dubito. Ovviamente, come detto, qua sotto in descrizione trovate qualche consiglio soprattutto per quanto riguarda i cavi, schede video e monitor a vostra discrezione, chiaramente solo per la cosa difficile da capire. E alla prossima ragazzi. Grazie. 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 Grazie.